Grazie Presidente, ringrazio anche il Professore per aver accettato il nostro invito ricordo anche a Presidente Brunetta che comunque la procedura era prevista abbiamo richiesto una procedura prevista per legge faremo domande molto tecniche sul programma che vorrà attuare il candidato ha parlato lei prima di informatizzazione e dei servizi informatici all'interno dell'Istat è in corso un processo di riorganizzazione informatica del quale però non è chiaro dove andremo a parare anche a luce di un recente questionario che è stato inviato al personale richiedendo la compilazione senza fornire ulteriori spiegazioni la preoccupazione personale dei sindacati è che la dirigenza stia riflettendo tutti i suoi limiti e che non sarebbe accettabile essendo presenti in organico e dipendenti Istat, circa 200 informatici vorrei chiedere se il Professore è al corrente di questa vicenda e quali siano le sue valutazioni e eventuali programmi di azione proprio in vista anche della sua introduzione facciamo una domanda alla volta che così può rispondere come preferite io preferirei che fossero rivolte tutte le domande e poi ci fosse una risposta diciamo così analitica ma complessiva anche perché ci potrebbero essere domande che possono avere dei punti di contatto quindi è meglio trattarle cumulativamente sempre successivamente abbiamo parlato, come ha detto Brunetto della carenza di fondi tutti sanno, anche lei, che l'Istat alcuni anni fa ha acquistato un terreno nel Comune di Roma per circa 14 milioni di euro sul quale avrebbe edificato la sede dell'unica dell'ente così riunendo le varie sedi disseminate nella città di Roma con la sua eccezione della sede di via Balbo che è De Magnale e quella di via De Pretis e via Liege di proprietà tutte le altre sono condotte dall'Istat in locazione con sborsi annuali di circa 13 milioni di euro ecco questi che potrebbero essere reinvestiti appunto per migliorare l'attività Istat il terreno è ubicato nel quartiere Pietralata sul quale l'Istat ha effettuato sondaggi e carotaggi ricerche di ordigni esplosivi sostenendo costi per centinaia di miliardi di euro verso uno stato di ottobre al bendono con una chilometrica cancellata realizzata a spese dello sesto Istat ormai disvelta e chiedo se a conoscenza di questa storia se come intende risolvere qualora diventasse presidente dell'Istat sempre per quanto riguarda i soldi e le ristrettezze economiche siamo sempre in spending review l'economia di Enrico Giovannini al vertice Istat nel 2009 il compenso è triplicato passando dai 93 mila precedenti a 23 mila euro annui percepiti da Bigeria ai 300 mila ridetti poi a 270 mila un simile compenso come è noto supera quello percepito da Ben Bernac presidente del comitato dei governatori della Federal Reserve e anche quello del presidente Obama ma supera anche di molto a quello assegnato presidente del CNR solo 159 mila euro un ente che a differenza dell'Istat conta più di 8 mila dipendenti e 105 istituti su tutto il territorio nazionale con budget di circa un miliardo di euro Gentile Professore non crede che sia necessaria una drastica riduzione del compenso previsto per il presidente se sarà nominato intende ridursi in denità di carica se sì quanto si può specificare inoltre se per il presidente Istat i gettoni previsti per la partecipazione a consiglio al comitato di indirizzo e coordinamento di informazione statistica si cumulano perché sul sito Istat non è riportato il testo del DPCM 27 gennaio 92 un'altra domanda parlato infatti nella sua relazione introduttiva anche di capitale umano valorizzazione del personale quindi se è consapevole che nella precedente gestione del professor Giovannini sono stati assunti in Istat oltre 380 precari su oltre 2.300 dipendenti 16,5% e che molti tali precari sono impiegati ormai in attività ordinarie e sono in scadenza dicembre 2014 cosa intende fare per affrontare il problema anche perché tutti conosciamo come male si lavora quando si è precari e per rassicurare una qualità dei lavori ultima domanda come deve sapere l'articolo 5 e la legge 196 del 2009 si è modificata la procedura per la nomina del presidente Istat il quale a seguito della proposta fatta dalla ministra pubblica amministrazione e semplificazione e dal governo ha bisogno del parere delle due commissioni affari costituzionali del senato e della camera con maggioranza e due terzi dei rispettivi componenti la razza di tale norma è quella di assicurare all'Istat e soprattutto al paese un presidente super partes che deve dar conto del suo operato al Parlamento e quindi ai cittadini e non al governo come è avvenuto finora con tale norma il legislatore dopo molti anni di discussione ha infatti voluto garantire l'indipendenza del presidente e dell'Istat da possibili ingerenze del governo italiano e a maggior ragione da ingerenza dei poteri europei internazionali già i cittadini greci ormai ridotti all'indigenza a causa dei dati statistici truccati per far entrare la Grecia nell'Eurozona ci hanno fatto capire cosa comporta la mancanza indipendenza dell'Istituto di Statistica per il governo del Paese e dal governo dell'Europa purtroppo appena qualche anno fa si è assistito all'ingresso di altissimi esponenti del governo nell'ufficio dell'Istituto di Statistica italiano la notte prima dell'infusione delle stime del PIL e del deficit pubblico inoltre inoltre nei prossimi giorni l'Istituto deve comunicare la stima dei più importanti parametri di Maxit ovvero quello sul rispetto del 3% deficit pubblico su PIL che si prevede sul filo dei centesimi di punto percentuale il suo curriculum evidenzia che lei è stato direttore della Fondazione Italiana Europea dove tuttora siede nell'Advisor Board è stato consigliere economico di governo da lei e da amato è stato membro di massimo livello di organismi internazionali che monitorano il nostro paese come il Fondo Militario Internazionale e Ocse tra le premesse ci chiediamo come possa essere considerata siccome questa legge è super partes la sua candidatura come farà lei garantire l'attendabilità e l'imparzialità dei dati così carichi di implicazioni economiche e politiche le ringrazio per rispondere grazie la parola se non ci sono altri interventi al professor Padovan prego grazie presidente rispondendo agli interventi degli onorevoli innanzitutto ringrazio se posso il caro amico Renato Brunetta per le parole che ha voluto usare ricordando i nostri percorsi paralleli come dici tu con qualche anno che ci incrociamo l'onorevole Cossolino e se ho ben capito i membri gli onorevoli membri del gruppo 5 Stelle molto sinceramente intanto la ringrazio per alcune informazioni che mi dà e alcune segnalazioni di problemi che evidentemente il presidente dell'Ista dovrà affrontare non voglio nascondermi dietro un dito ma posso dire che io mi sento obbligato come ho fatto quando sono andato a far parte di istituzioni importanti in passato c'è bisogno di una cosiddetta fase di due diligence nel senso che i problemi che lei solleva di cui in parte sono già a conoscenza sono seri complicati e interconnessi bisogna secondo me avere una visione complessiva della strategia dell'istituto e quindi fare scelte che come ricordava il presidente Brunetta subiscono il vincolo di bilancio che è molto duro quindi dato un vincolo di bilancio bisognerà affrontare i vari problemi in questo sono incoraggiato dall'esperienza che è stata condotta fin qui mi sembra che l'istat nella sua attività recente ha utilizzato meccanismi innovativi per continuare a fornire i prodotti che è richiesto faccia con risparmi di risorse con riallocazione delle risorse quindi mi scuso con l'onorevole Costolino se non riesco ad essere più specifico in questa sede mi auguro in una veste diversa di poterlo fare in modo più fattivo di quanto adesso non riesco a fare se mi è permessa una parola sulla questione dell'indipendenza io direi che è stata lei ha ricordato alcune mie componenti del mio curriculum sia diciamo come fondazione sia anche come diretto coinvolgimento in governi passati che ovviamente fanno parte della mia attività professionale le dico due cose io sono stato nominato anzi votato perché questa è la procedura nel caso della Costituzione italiana ha votato ad essere membro del board del fondo monetario da un governo che poi è uscito di scena e per tutta la durata della mia attività al board del fondo monetario fino al 2005 nella seconda età del 2005 ho risposto direttamente al ministro dell'economia di un governo di segno diverso non credo di poter dire una cosa falsa se dico che il governo diverso a cui rispondevo quasi quotidianamente si possa lamentare di una scarsa collaborazione o di una scarsa difesa degli atti di quel governo quando come spesso accade al fondo monetario il governo era messo sotto scrutinio da parte del board e questo compreso anche nella questione dei numeri che lei ha voluto citare il mio ruolo all'Ox è diverso ovviamente all'Ox io non rappresento il governo italiano sono membro del segretariato come vice segretario generale e quindi rispondo per definizione a tutta la membership a tutti i paesi membri dell'Ox che sono 34 però voglio dire che come capo economista sono responsabile dei numeri soprattutto dei numeri macroeconomici che l'Ox produce e devo dire che più di una volta mi è capitato di approvare numeri prodotti dallo star dell'Ox che si sono dimostrati in contrasto con numeri che invece venivano utilizzati altrove quindi quello che io ho sempre fatto quando ho dovuto prendere la responsabilità di approvare numeri è innanzitutto di continuare a controllare e ricontrollare il processo discutere del perché quel numero dovesse uscire e quale fosse il ragionamento dietro quel numero e una volta che in mia coscienza io ero convinto che quel numero fosse giusto ho autorizzato la diffusione io penso che questo sia il criterio che si deve seguire e soprattutto in un'istituzione che produce in modo trasparente indipendente i numeri se l'istituzione non fa questo è il danno più grave che può portare a se stessa e anche al paese in cui si trova un'ultima parola all'onorevole Richetti che ringrazio sono perfettamente d'accordo che la crisi ha aperto moltissimi nuovi interrogativi che hanno tra le altre cose la seguente caratteristica che sono tra loro interconnessi mi spiego meglio all'Ocse abbiamo da un po' di tempo proprio a seguito della crisi intrapreso un programma orizzontale che coinvolge tutta l'istituzione che si pone la seguente domanda vogliamo capire meglio come determinate politiche economiche sociali strutturali abbiano effetti su dimensioni che fino a prima della crisi erano trascurati un esempio per tutti politiche per la crescita politiche di bilancio di spesa e di imposizione fiscale hanno obiettivi diretti sul bilancio e sulla crescita ma anche molti obiettivi indiretti sulla diseguaglianza sociale sulla stabilità dei sistemi abbiamo imparato moltissimo questo ci permette di ripensare sia l'informazione statistica che la traduzione di queste informazioni statistiche in un auspicabilmente migliore modo di disegnare la politica economica io sono fortemente convinto di questo l'idea di benessere è solo il primo passo è solo il primo passo verso una multidimensionalità dell'analisi questo secondo me è il futuro dell'analisi socio-economica delle istituzioni pubbliche non solo in Italia ma dappertutto il sostegno che la membership dell'Ocse dà a questa iniziativa del segretariato è molto incoraggiante quindi sono perfettamente d'accordo che quelle sono le lezioni di iniziatrare siamo in un mondo diverso rispetto a quello che c'era prima della crisi direi a questa iniziativa